I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della Repubblica due uomini, un 53enne e un 29enne, a vario titolo per i reati di porto di armi ad oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sabato sera l'equipaggio di una volante, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in via Red Italia, dove erano stati segnalati due uomini armati di coltello. I poliziotti hanno identificato i due contendenti, un 29enne che poco prima, in stato di agitazione armato di coltello, aveva danneggiato il portone di una comunità di accoglienza e due autovetture parcheggiate nella predetta via, e un 53enne che, armato di mannaia e di coltello, era sceso in strada dalla propria abitazione per affrontare il 29enne. I predetti, bloccati dai poliziotti, coadiuvati da un equipaggio dell'arma dei carabinieri, sono stati sottoposti a perquisizione personale condotti in Questura. Nella fase della identificazione delle perquisizioni, entrambi fermati hanno posto resistenza nei confronti dei poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni. La mannaia e i due coltelli sono stati sequestrati.